...esperienze come il Bando Costa, che è il decreto sulla forestazione urbana che ci ha accompagnato nell'annualità del 2020-2021. Stiamo seguendo con attenzione il Bando PNRR, che in parallelo al nostro progetto PNRR Biodiversità, lavora sulle città metropolitane per l'incremento del capitale naturale attraverso misure di sostegno economico e per la forestazione urbana. Sono già stati citati elementi di sfida come quelli del vivaismo anche da Donatella nella relazione precedente e dall'altra parte si occupa di mettere a sistema quelle capacità che ad esempio la sfida che l'Unione Europea ha lanciato nelle 100 Carbon Neutral Cities by 2030, che è una sfida che nove città italiane fino ad ora hanno intrapreso, quindi Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino, si occupano di portare avanti e come queste sfide all'interno delle città vengono intraprese, con quali obiettivi, con quali policies e con quali implementazioni. Se questi sono gli obiettivi e più per il centro nazionale uno degli obiettivi primari è ovviamente creare conoscenza, e questo lo facciamo attraverso la capacità di scambio e relazione con i ricercatori attraverso la ricerca di base. Una delle attività su cui stiamo lavorando sono progetti di studi di campo che appartengono alle diverse città campione, tra cui Milano, Roma, Firenze, Torino, Campobasso, che sono tra le città su cui ci stiamo concentrando dal punto di vista dello studio, dei campionamenti proprio per la biodiversità. Quello su cui vorrei portare il ragionamento riguarda quanto poco, nel momento in cui ci siamo posti questa sfida, quanto poco conosciamo della biodiversità urbana e di quanto nel 2023, nonostante un trentennio e soprattutto un decennio che ci abbia trasmesso una necessità di lavorare sulla perdita di biodiversità, sulla crisi e il contrasto dei cambiamenti climatici, così come sono gli obiettivi, quanto poco e quanto segmentate sono le informazioni che ad oggi abbiamo a disposizione per lo studio della biodiversità urbana. Quindi uno degli obiettivi, una delle sfide che ci troviamo davanti, riguarda proprio colmare questo gap di conoscenze abbastanza ampio, perché delle città, e nello specifico mi riferisco ad esempio alle conoscenze sul sottosuolo, sul suolo, ma anche della biodiversità sia dal punto di vista vegetale che dal punto di vista animale, che sono presenti nelle nostre città, che sono ad oggi veramente molto specifiche, molto settoriali, poco estese, tanto che è veramente difficile fare nel 2023 una picture esaustiva a livello delle città, a livello italiano, ma anche a livello europeo. Questo gap di conoscenze è un gap molto ampio, su cui io evidentemente tutti ci stiamo attrezzando per lavorare. Questo perché quello che sono le città sono un ambiente dove la natura è una natura artificiale, dove la natura è per sua stessa diciamo dizione nella città controllata. Ci sono diversi termini glossari che proprio riportano questo tema di addomisticare la natura nelle città per una diciamo convivenza, che è una convivenza dove la specie umana evidentemente esercita una pressione, una coercizione per far sì che una specie domini in questo momento sulle altre. Quindi questo cambio di paradigma, questa transizione ecologica e la importanza di immaginare un sistema che non sia antropocentrico ma che includa e riponga un diverso equilibrio, fa sì che le città che sono sempre state questi luoghi complessi che continuamente vengono ridefinirti, riaggiornati, sono oggi in questo momento il luogo dove la ridefinizione, lo studio, la conoscenza, la messa di sistema di tutti questi elementi si sta ripensando. Quindi a questo credo che il libro che tra poco uscirà e che Giuseppe in maniera molto chiara prima a Giuseppe Scarascia, a Mugnozza, ha prima enunciato, è proprio quell'elemento di collante di sintesi dove i diversi alimenti di un metabolismo così complesso che è quello delle città viene trattato all'interno del libro. Gli elementi mancanti, i pezzi di questa conoscenza sono uno degli elementi che da una parte la piattaforma che prima Donatella ci ha raccontato e che sono uno degli elementi mancanti soprattutto nelle nostre città è qualcosa su cui ricercatori di tutta l'Italia si stanno concentrando proprio per andare a colmare questa conoscenza. Questo perché oggi lo sentiamo più che mai, da una parte abbiamo bisogno delle conoscenze di base e dei dati per poter avanzare come ricerca, dall'altra parte quello che ci pare più evidente o perlomeno in alcune delle relazioni precedenti più in generale anche nella discussione che portiamo avanti all'interno del centro quello di trasferire le conoscenze da una parte alle amministrazioni e alle persone che si occupano io parlo in questo caso di città, hanno bisogno di poter avere e dall'altra le conoscenze che servono ai cittadini per passare a questa transizione e fare in modo che le scelte che vengono intraprese dal punto di vista delle amministrazioni o le indicazioni che vengono date dai ricercatori verso, quindi come policy implementation, possano poi essere adottate. E questo perché credo che sia uscito anche nei temi caldi rispetto all'inclusione dei cittadini, la partecipazione dei cittadini nelle scelte di pianificazione è un tema sempre più caldo. Da una parte ci troviamo dall'idea di includere e portare le città ad una natura sempre più forte all'interno dei nostri sistemi urbani, dall'altra ci rendiamo conto che queste scelte se non sono codisegnate e in gran parte condivise dalla popolazione non semplicemente sull'azione ma sul perché delle azioni. Io ho una figlia che ha tre anni e è nel periodo dei perché, per cui io passo la mia giornata a rispondere alle domande più banali. Perché mamma l'acqua scende? Perché? Allora questo è un po' un'attitudine che grazie a me figlia cerco di riportare nella dimensione più generale. Mi rendo conto che le questioni evidenti e che in questo momento a cui sono necessarie delle risposte, delle risposte molto semplici, fanno riferimento a dei sistemi molto più complessi che ad oggi non riescono a ottenere risposta. Come riusciamo a gestire gli alberi? Perché un albero viene tagliato? Come viene tagliato? Qual è la sua gestione? Qual è la sua natura? Quali sono i benefici di quegli alberi? Perché quell'albero viene piantato? O perché viene rimosso? Sono delle informazioni che molto spesso non riescono a essere trasferite in maniera semplice, veloce e efficace alle persone che vivono questi luoghi e alle persone che hanno bisogno di conoscere delle ragioni profonde e il perché di alcune azioni. Questo fa sì che tutte queste informazioni che noi man mano stiamo costruendo, compilando, computando devono avere un dato che è quello che ci permette di fare una ricerca, una ricerca efficace e attraverso dei piloti andare a misurare e dall'altra permettere sempre di più alle persone di capire il perché abbiamo bisogno di tutto questo. Fabio Salvitano prima ci ha raccontato in maniera molto chiara ed evidente dei benefici ad esempio sulla salute e anche ci sono delle parti del capitolo del libro di BioCities che ci raccontano del perché. Ancora questo non è così chiaro ed evidente e efficace nel racconto verso le persone. Per cui se oggi ci troviamo di fronte a delle scelte diciamo lontane e vuoi nella natura in città le risposte, poiché è una domanda stratta, la risposta è sempre sì. Quando dobbiamo lavorare su dei progetti molto specifici dove tu hai delle scelte binarie, vuoi un parcheggio, vuoi un albero, la risposta è molto spesso voglio un parcheggio. Quindi questo ci permette di capire che da una parte siamo ancora legati dei modelli di città che sono dei modelli che lavorano sul singolo e dall'altra non siamo ancora stati in grado, non siamo ancora in grado di riconoscere i benefici che un albero ci porta ben maggiori del parcheggio sotto casa. Questo è un ambito di lavoro enorme perché è quello sul lungo termine che ci permette di fare in modo che le scelte che noi oggi immaginiamo dal punto di vista della ricerca e in un futuro prossimo le amministrazioni possono implementare devono essere poi condivise e scelte e richieste dalla popolazione. Per intanto questo riguarda ancora delle parti della popolazione ma non la sua interezza perché la natura in città non è la priorità, non lo è ancora, lo è per alcuni di noi ma non per tutti ma lo deve diventare quindi in cima alle agende delle amministrazioni, in cima alle agende della ricerca e deve diventare sempre di più in cima all'agenda delle persone per farlo diventare veramente efficace. Per questo il tema della biodiversità urbana poiché ci occupiamo di una popolazione che vive nelle città e vivrà sempre di più delle città questo è uno dei dei temi centrali su cui stiamo pensando, lavorando e ragionando. Con questo concludo e vi ringrazio. Grazie, grazie Maria Chiara Pastore anche perché è riuscita insomma a trovare il collegamento tra ciò che è stato detto negli interventi precedenti anche molto alti a poi alla declinazione. non bastano le politiche ha detto, occorre poi declinarle a scala locale nelle scelte di pianificazione, vanno spiegate, condivise. Questi sono poi i temi caldi che infiammano poi i dibattiti nelle città tra la scelta del parcheggio e quella dell'albero. Allora adesso vi prometto che termineremo entro le sei e mezza circa. Abbiamo l'intervento, scambiamo l'intervento, l'ultimo intervento con il penultimo che poi concluderà la serata salvo poi interventi dalla sala e quindi invito il professor Pulina, Giuseppe Pulina ordinario di Zotecnica qui al Dipartimento di Agraria che ha coordinato un importante progetto del Dipartimento appunto sul paesaggio agrario che insieme al professor De Montis che è docente appunto di costruzioni rurali e pianificazione del territorio rurale con un intervento che si intitola le relazioni fra paesaggio agrario e città. Prego. Grazie presidente, siete morti questa è la verità, vedo che il tasso specifico di sbadiglio sta aumentando nella platea per cui parlo in piedi prima di tutto, secondo faccio un interventino di dieci minuti perché poi interviene il collega De Montis, Andrea e parlo invece del resto del paesaggio che non è il paesaggio urbano, mentre Andrea parlerà dell'interfaccia tra paesaggio extraurbano, cioè paesaggio rurale e paesaggio urbano e parlerò del paesaggio rurale della Sardegna, torniamo un pochettino a casa così parliamo di qualche cosa che conosciamo. Vi illustro con estrema brevità una parte del progetto che abbiamo svolto, assieme al collega Dettori, a Maria Rosario Filighiedu che è qui presente, che magari poi potrà intervenire se ritiene, e Ignazio Camarda, partendo evidentemente da dove si parte quando si parla di paesaggio rurale, si parte dall'allegoria del buono e cattivo governo, di Ambrogio Lorenzetti, che ci dice che le città da sempre hanno contatto sul paesaggio rurale, hanno contatto su una campagna ben condotta, per cui il benessere delle città era anche il benessere della campagna che le circondava. La cosa interessante è che ho imparato molto in questa serata, ringrazio gli organizzatori e i colleghi che hanno parlato prima di me, il paesaggio verde urbano è un paesaggio progettato, un paesaggio disegnato, invece il paesaggio rurale è un paesaggio autopoietico, è un paesaggio che si adegua a quelle che sono le necessità economiche della campagna. Questo è il progetto, magari stanno andando avanti per controllo le diapositive, il progetto in cui abbiamo partecipato in tanti, più di 50 persone, quelli che vi ho detto sono i coordinatori, anche in collaborazione con le agenzie Foresta, Slaore e con l'Isre, abbiamo due parti fondamentali, 5 minuti a testa, la prima è una descrizione del paesaggio rurale secondo la classificazione, prima di tutto una definizione che abbiamo dato noi, che cos'è il paesaggio per noi, il paesaggio rurale? Il paesaggio rurale è una determinata parte del territorio, con prevalenti usi agricoli, zootecnici, forestali, naturali e inseriativi, singoli o combinati, la cui caratterizzazione deriva dall'interrelazione di processi naturali e antropici, materiali e materiali, così come percepito dalle popolazioni, praticamente questa è la convenzione sul paesaggio, ma l'abbiamo ampliata per renderla efficace ai paesaggi rurali. Ci siamo messi da un punto di vista di chi non sta in città, perché qui abbiamo il paesaggio urbano, poi il paesaggio non urbano, invece ne abbiamo detto, facciamo una cosa, vediamo il paesaggio rurale e il paesaggio non rurale e nel paesaggio rurale abbiamo fatto una sorta di tassonomia, dividendolo in insediativo rurale, di cui si sono occupati oltre che il collega De Monti, sa anche i colleghi dell'Università di Cagliari, il paesaggio agrario e il paesaggio naturale, torniamo indietro, il paesaggio agrario si divide poi il paesaggio agricolo, il paesaggio zootecnico, il paesaggio forestale, con tutta una serie di altre sottoclassificazioni che non vi ho riportato per non annoiarvi. Questa è la restituzione e l'entità dei diversi tipi di paesaggio in Sardegna, il paesaggio agricolo occupa il 23%, quello forestale circa il 30%, il paesaggio zootecnico il 36% e gli altri via via meno, il paesaggio naturale circa l'8%, come vedete il paesaggio insediativo urbano vale il 2%, sono i dati che ci ha dato Boeri prima, un po' più ristretti perché noi siamo una regione spopolata, quello che vedete lì è i vari colori, quello che vediamo in rosso è il paesaggio più frequente, cioè il paesaggio zootecnico, di cui vi parlerò in maniera un po' più rapida, questa è la distribuzione dei cosiddetti pascoli naturali, questa è la distribuzione invece dei pascoli artificiali e degli erbai che sono andati ad occupare le ex aree cerealicole, come meglio potrà dire il professor Rogero che essendo un agronomo vede subito dove stanno ormai queste coltivazioni che hanno sostituito i cereali, dopodiché la cosa molto interessante è che queste sono le foreste pascolate, di 1.250.000 ettari di foreste in Sardegna circa una milionata di ettari viene pascolata, divisa poi nelle macro categorie con cui abbiamo classificato il paesaggio forestale, in soldoni di tutto il territorio della Sardegna il 75% è soggetto a pascolamento, bene o male che siano pascoli, prati pascoli, erbai, superfici silvane eccetera e questo rende la Sardegna un territorio in cui il paesaggio prevalente è il paesaggio pastorale e allora vediamolo un po' questo paesaggio pastorale lo possiamo classificare come intensivo, intermedio oppure estensivo in funzione della tipologia aziendale che andiamo a trovare utilizzando due indicatori che sono l'indice di pastoralità, cioè quanta parte della superficie agricola è occupata dalla superficie di pascoli e l'indice di zootecnicità, cioè il carico di bestiame in uba per ettaro, questa è una restituzione degli ambiti di paesaggio, i tecnici sanno perfettamente di cosa stiamo parlando, sono quella roba per cui non sono stati definiti le schede, non sono state approvate definitivamente per cui siamo in mezzo al guado e come vedete l'incidenza della pastoralità è piuttosto elevata, abbiamo 114 comuni su 377 che hanno un indice di pastoralità che sta tra 0,7 e 1 che vuol dire che praticamente la superficie che hanno a disposizione è tutta quanta utilizzata per alimentare il bestiame, questi sono invece i dati sui carichi di bestiame, ognuno può vedere dove sono concentrati gli animali in Sardegna, sono diffusi su tutto il territorio ma sono concentrati in alcune aree, parte arborea che ha dei carichi spaventosi, ma come vediamo il nord, centro nord Sardegna è l'area più interessata. Questa è la parte della caratterizzazione invece del paesaggio della Sardegna che ha avuto una genesi molto complessa fino a individuare 258 paesaggi agrari locali che possono servire da supporto ai piani urbanistici comunali, questa è la metodologia con cui sono stati redatti, tutto spiegato in qualche centinaio di pagine depositate all'assessorato agli enti locali e all'urbanistica, questo è un esempio dei 358, è il sistema ortofrutticolo del Campidano con tutte le sue schede di descrizione, cioè esattamente tutto quello che serve per approvare definitivamente il piano paesaggistico regionale che da 4 anni invece non viene approvato perché ci si è fermati con la passata legislatura, la legislazione, questa legislatura l'assessorato agli enti locali ha gli elementi ma non porta avanti il PPR, cioè non lo chiude per essere precisi, per le aree rurali che rappresentano il 95% della superficie della Sardegna, noi il lavoro l'abbiamo fatto, l'abbiamo consegnato però sta lì e invecchia perché intanto cambia il paesaggio e cambiano i dati, questa è un'altra parte del lavoro che è stato fatto, è stato ricensito quello che è il patrimonio di beni culturali, quella a sinistra erano i beni che erano presenti nella carta regionale, quelli invece sono stati tutti riclassificati, come vedete a destra ci sono circa 11 mila beni che sono estremamente importanti nella definizione dello storico, del paesaggio rurale, questo è una parte che ha riguardato i rapporti fra tecniche di gestione agrosilvo forestale e paesaggi forestali e forme di insediamento, quelle sono le aree di carottaggio che abbiamo utilizzato, queste sono l'esplosione di ciò che è stato fatto nell'area del Monte Arci e del Golfo di Oristano che è l'ambito 9 come è noto a tutti e poi infine l'ultima cosa molto bella, questa è una grande intuizione di Maria Rosaria che è andata a ricensire tutte quelle che sono le aree terrazzate della Sardegna, cosa che non era mai stata fatta per essere precisi, questa è la prima carta prodotta sui terrazzamenti della Sardegna, divisi in terrazzamenti attivi, cioè laddove ancora si continua a mantenere, a fare manutenzione del territorio, quelli invece che sono abbandonati e alcuni pochissimi punti ancora da validare, insomma sono quasi 10 mila punti, molto interessanti, sono stati fatti poi dei carottaggi, questo è uno dei quattro carottaggi, nel caso di Monte Sant'Elene su Dorgali, queste sono le carte di restituzione che sono state fatte dal gruppo di lavoro del professor Dittori e della professoressa Filigheddu e vi ringrazio per l'attenzione, 10 minuti, lo rispettate, passo l'attenzione, la parola ad Andrea per la parte interfaccia. Grazie Giuseppe, prego Andrea, è un segno che il paesaggio è dinamico, è frutto delle interazioni che sono venute, si sono succedute nel tempo. Va bene, mi alzo, no, rimango così. Allora sì, cerco di contenere l'intervento, qui fai schermo intero, vista, vista, vista. Sì, non ci vedo, vista, vista, vai, clicca su vista, e poi schermo intero, oppure modifica. La dimensione di visualizzazione? No. Non c'è. Oh. Spice on. Oh, non mi no. Vista. No. Schermo intero. La visualizzazione? Non ce l'ha. No. Non ce l'ha. Torna qui. Vai, vai, va bene così. Vado così. Allora sì, diciamo, io mi occupo di parlare degli spazi ibridi, cioè né urbano né rurali. Se ci può essere una relativa certezza sul fatto che gli spazi a sinistra sono senza dubbio urbani e che gli spazi a destra sono senza dubbio rurali, e cioè seguiamo un ragionamento diciamo classico, un po' città e campagna, dualismo, diciamo che in molti casi invece più problematici, ci sono dei casi più problematici per cui questa dicotomia non si può applicare. Quindi diciamo che vari casi in tutto il mondo effettivamente ci raccontano di uno spazio disperso, cioè senza limiti, una metropolis unbound. Si tratta di spazi ibridi, Mongolia, la stessa arborea poi se ci pensate, gli spazi esterni della città incastellata, vedete Dubrovnik in basso a sinistra e gli spazi statunitensi, Denver ma anche Los Angeles eccetera. Ci riportano a una realtà diversa, a un paradigma diverso in cui il geografo, il pianificatore si deve riorganizzare per studiare e per pianificare più correttamente, perché le vecchie categorie appunto di urbano e di rurale al 100%, diciamo 0,1 binarie, non possono essere più applicate. Quindi diciamo quali sono questi paesaggi di mezzo, qui vediamo un piano provinciale di qualche anno fa di Lucca e questa è la, sulla destra invece c'è Bergamo, con una espansione urbana, uno sprawl come dicono gli inglesi, che spiazza, perché non siamo più in grado di delimitare la città, quando non siamo più in grado di delimitare la fine della città abbiamo, noi diciamo, perdita di territorio, quindi non ci ritroviamo più. I geografi, gli urbanisti si sono quindi riorganizzati per studiare questi paesaggi e con una certa terminologia hanno utilizzato anche questo termine di paesaggio di transizione. Qualitativamente quindi ci sono stati dei neologismi, quindi banlie, periurbanizzazione, quindi suburbanizzazione per la verità con un certo carattere negativo, periurbanizzazione, rururbanizzazione fino all'interfaccia urbano-rurale. E questo paesaggio di transizione quindi ci consente di trovare un senso più compiuto, più preciso, appunto, nella transizione dai paesaggi urbani ai paesaggi rurali, che a loro volta possono essere classificati ulteriormente, come diceva il professor Purina prima di me, in agricoli, forestali, zootecnici e tanti altri. Non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista quantitativo, sono stati ideati degli indici proprio per quantificare questa transizione. Uno di questi indici è stato proprio addirittura codificato nel censimento americano come urban-rural continuum code, per cui vedete c'è un passaggio, vedete in alto a destra, ci sono sostanzialmente tre livelli fatti per le aree metropolitane, mentre per le aree di interfaccia e le aree rurali ci sono sei livelli, quindi un livello di complessità nella descrizione molto, molto maggiore. Un altro indice importante è l'index of relative rurality, che ci dice, quello che vedete in basso a sinistra, che ci dice che nel passaggio tra il fully urban e il fully rural ci sono tutta una serie di transizioni, per cui vedete si passa gradatamente dalle aree urbane in blu scuro alle aree rurali in rosso scuro. E' possibile fare un ragionamento simile proiettando e rivedendo, perché bisogna aggiustare un po' le soglie, ovviamente perché gli Stati Uniti sono diversi dalla Sardegna, fare un ragionamento del genere anche per la Sardegna, andando un po' appresso e confermando quello che ci ha raccontato prima il collega Giuseppe Pulina, e questo è l'index of relative rurality applicato alla Sardegna, dal quale si può vedere che la stragrande maggioranza dei comuni della Sardegna può essere considerato sostanzialmente rurale o al massimo ruro urbano. Vedete la frequenza accumulata, che ci dice che sostanzialmente pochissimi comuni sono puramente urbani e tutto il resto è occupato dall'urbano rurale o dal rurale. E questo è un altro indice che è fatto da una composizione di tanti altri indici, 4-5 indici sperimentati in giro per il mondo, il Composite Index of Rurality, che ci dice sostanzialmente le stesse cose, vedete che le aree urbane sono quelle, nella rappresentazione a destra, quelle blu, e le rurali sono quelle gialle, arancioni fino al rosso scuro, con una presenza di paesaggi di transizione molto marcata. Ed è interessante vedere come questa cosa sia parzialmente in relazione con l'indice di accessibilità, per esempio al pendolarismo, che ci dice che maggiore il pendolarismo, maggiore la cosiddetta remoteness, cioè la lontananza di un comune dai centri principali più vicini. Che fare in questi territori della transizione? Allora noi ci siamo occupati, nella stessa convenzione di cui parlava il professor Pulina, di fenomeni emergenti in questi paesaggi rurali. Sono sostanzialmente due. Abbiamo fatto una schedatura dei paesaggi rurali, sempre nell'ottica del completamento del piano paesaggistico regionale, per gli ambiti interni. Voi sapete che gli ambiti interni ancora non sono stati approvati ed è vigente soltanto il primo ambito omogeneo, quello dei 27 ambiti di paesaggio costieri. Quindi diciamo, un primo fenomeno è la presenza di un costruito in abito disperso e periurbano. Questo è presente sia nella Nurra, in vari punti, sia in ambiti prettamente rurali, sia in ambiti diciamo periurbani, cioè molto più vicini ai centri abitati. Il secondo fenomeno, diciamo, pervasivo è un fenomeno di frammentazione del paesaggio. Cioè, quando noi abbiamo la transizione urbano-rurale, il territorio diventa, diciamo, un po' più spugnoso, pieno di vuoti, pieno di contraddizioni, non è più o compatto o non compatto. E soprattutto, gli habitat vengono frammentati dalle infrastrutture. Vengono frammentati dalle infrastrutture in modo tale che si ha appunto questo fenomeno per cui si creano tanti piccoli tasselli, sempre più piccoli e sempre più lontani l'uno rispetto all'altro. E abbiamo dato conto, descritto in un progetto finanziato dalla legge 7 regionale, e in vari ambiti questa cosa ritorna sostanzialmente in tutta la Sardegna. Quindi, i due fenomeni emergenti sono l'habitat disperso e la frammentazione dei paesaggi costruiti nei territori, nei paesaggi periurbani. Come uscirne? Una delle soluzioni è recuperare in connettività sostanzialmente, puntando sul greening, su retti ecologiche e infrastrutture verdi. Quindi riprendo un concetto più volte espresso dai miei colleghi negli interventi precedenti, cercando di coniugare la valutazione dei servizi ecosistemici erogati da ogni soluzione con un particolare focus sull'adattamento a cambiamenti climatici. In sperimentazione abbiamo la creazione di due reti ecologiche, una per la città di Nuoro e una per la città di Sassari. Su questi due casi studio abbiamo anche fatto degli studi di resilienza, cioè abbiamo cercato di capire fino a che punto queste due reti sotto attacco sono capaci di auto-organizzarsi e di resistere. E un'altra esperienza è un'infrastruttura verde per la città metropolitana di Cagliari allo studio nell'ambito della strategia regionale di adattamento a cambiamenti climatici, parte seconda, diciamo così. Io ho terminato, questi sono i nostri riferimenti, i progetti di ricerca e i paper. Grazie. Grazie Andrea. Grazie anche per quest'ultimo contributo che dimostra che anche il Dipartimento è attivo su questi temi e che non c'è città se non c'è campagna e viceversa. Insomma abbiamo capito che le due cose sono intercorrelate. Lascio la parola per le conclusioni al professor Marco Marchetti il quale oltre a essere professore ordinario di assestamento forestale e servicoltura all'Università del Molise è anche presidente del Consiglio di Amministrazione dell'European Forestry Institute e della Fondazione Alber Italia che è una fondazione che ha come scopo principale il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall'uomo utilizzando soluzioni basate sulla natura e persegue finalità civiche e solidaristiche di utilità sociale. Quindi Marco a te l'arduo compito sei davanti a una platea di professionisti innanzitutto di ricercatori stanchissimi stanchissimi che però ha avuto modo credo penso insomma di apprezzare il livello delle presentazioni che è stato molto alto magari un po' meno il format del convegno che è stato molto pesante perché c'erano tante relazioni però ci sono anche i comitati di quartiere che hanno comunque delle istanze delle istanze l'amministrazione ci sente online indifferita e questo ho capito peccato però ci sentirà perché comunque lo metteremo a disposizione credo che anche gli organi di stampa sono stati informati che quindi daranno comunque un certo peso all'iniziativa quindi ti ringrazio per queste conclusioni e ti do la parola Grazie, grazie per Paolo grazie a tutti quelli che sono intervenuti grazie a Fabio per questa idea bellissima io davvero sono contento anche di non fare la mia presentazione come era da programma ma provare a dire qualcosa che aiuti a tenere le palpebre aperte a riprendere l'attenzione e focalizzare su qualcuno dei punti che abbiamo detto anche in maniera un po' concreta la prima cosa che mi verrebbe da dire è all'assessore spero mi sentirà che è normale tutti gli assessori che incontriamo lo dicono dobbiamo mettere mano alle tasche perché costa bisogna pensare cominciare a girare il ragionamento perché se vogliamo questi servizi il verde urbano di una volta la foresta urbana è un investimento non è un costo devono prenderla e spostarla nel bilancio comunale dalla voce costi e metterlo sulla partita perché è un investimento perché evita tantissimi costi invece loro lo capisco perché le amministrazioni nella manutenzione delle linee guida ancora delle gestioni delle municipalità questo problema questo tema è manutenzione del verde e si vede solo il tema costo non si riesce mai a capire che invece è un investimento non soltanto sulla biodiversità ma sulla salute sul benessere dei cittadini e su tanti costi evitati questa è una prima provocazione molto concreta che ogni volta proviamo a ripetere però riprendo il filo del ringraziamento perché in fondo BioCities è figlia di quell'anno topico del 2018 che abbiamo vissuto molto qui in Sardegna come European Forest Institute cominciando da Nuoro a maggio quando abbiamo presentato il convegno che abbiamo marzo il convegno che abbiamo poi fatto a settembre ad Alghero e in cui sono nate queste idee era il 2018 a novembre abbiamo avuto il primo forum mondiale sulle foreste urbane a Mantua organizzato in Italia dalla nostra società scientifica Sisef dal Politec con il Milano e soprattutto promosso dalla FAO ma questi tre organismi che sono quelli che poi collaboreranno anche a Washington alla seconda edizione e lì prendeva sempre più corpo quest'idea e poi dobbiamo dire come mondo forestale in cui che la Sisef che ha promosso questa cosa viveva anche quell'attimo quegli anni importantissimi di dialogo con la ricostituita direzione generale delle foreste che sapete per vent'anni è mancata nel nostro paese e invece proprio nel 2018 è uscito il testo unico sulle foreste che parla di pianificazione forestale nei termini in cui Giuseppe nell'ultima redazione ha provato anche a ventilarci quello che potrebbe essere utile per la zootecnica e il pastoralismo forse noi abbiamo un articolo della legge del testo unico 34 del 2018 recentissimo che è una legge quadro sulle foreste d'Italia che dice che servirebbero i piani forestali di interesse territoriali capaci di ragionare per mettere insieme foreste fratellie pascoli agricoltura e possibilmente anche il dialogo con l'interfaccia quindi rivedere un po' uno strumento di pianificazione di area vasta che molti più di me qua dentro sanno ormai è dimenticato da decenni nel nostro paese perché è tutto legato alla programmazione o regionale o dell'ente locale che poi vive sugli oneri di urbanizzazione per cui ci ritroviamo ad essere il paese che non ha il 3% del consumo di suolo neanche il 3,2% mondiale neanche il 3,2% della media europea ma abbiamo il 7,6% di suolo consumato e questo è un tema su cui alberi foreste e biocittà possono fare molto per limitare i disservizi poco forse per salvaguardare il bel paese che invece Brogio Lorenzetti ci presentava come esito del buon governo se ripensiamo alle biocities qualcosa che qua e là è uscito oggi a cominciare da Stefano nella prima relazione ma tutti quanti lo hanno un po' alla fine ricordato in fondo queste città sono qualcosa che partendo dalla polis atteniese sono passate attraverso Roma che era la megalopoli di duemila anni fa una città da 100 milioni di abitanti progettata per Pechino come ben sapete si era portata a quei tempi ma in fondo se la sono inventata i romani il concetto di città e abbiamo visto quanto fosse bio fino al 1870 chi si è inventato le città disperse nel territorio il rinascimento italiano poi siamo quelli che invece oggi e mi attacco all'ultima bellissima relazione grazie per la conclusione azzeccatissima di aver messo il tema del paesaggio rurale e della sua lettura dal punto di vista degli indici della frammentazione oggi lo sprinkling per noi è più importante dello sprawl nella strategia nazionale del verde urbano che pochissimi conoscono pubblicata nel 2018 è presentata proprio al forum mondiale delle foreste di Mantua la strategia italiana è sul sito del ministero MASE ministero per l'ambiente e sicurezza energetica basta citare strategia nazionale del verde urbano e esce ci sta una cluster analysis per gli 8000 comuni italiani che raggruppa in sei categorie tutti i comuni d'Italia mettendo quelli assediati ormai dal bosco delle aree interne assediati dal bosco quelli che sono circondati dal bosco quelli che ancora vivono una dimensione di stabilità rispetto a paesaggi che sono quelli del dopoguerra e che ricordiamo bene fino al secondo dopoguerra e fino da prima di inizio dell'ottocento non era cambiato molto e quei nuovi paesaggi invece che sono proprio quelli del continuum urbano per cui noi abbiamo la litoralizzazione e l'urbanizzazione progressiva che è inarrestabile sembra inarrestabile nel nostro paese come in tutto il mondo però da noi forse la vediamo in modo particolare proprio per la storia che abbiamo ma se guardate la pianura padana è esattamente uno di quei paesaggi che è stato fatto vedere poco fa frammentato da che cosa dai confini amministrativi ma da Pordenone da Udine da Sandonà di Piave a Novara non si vede più il paesaggio rurale in autostrada serenissima a quattro il litorale Adriatico è identico tantissimi fondo valle del nostro paese inclusa la Val d'Adige da Verona a Bressanone identica dove siamo andati sui terreni più fertili su quel qualcosa di pianificazione di aree vasta che è completamente mancato negli ultimi decenni ormai diciamo negli ultimi quarant'anni quindi c'è una forte responsabilità oggi anche nel recuperare e proporre strumenti come questi che possano contribuire a dare categorie nuove per capire che dobbiamo fermare il consumo di suolo come dobbiamo a livello planetario fermare la deforestazione perché sono i due driver i più importanti dei cambiamenti globali che sono di triplice natura il clima sì la biodiversità forse più drammatica la sesta estensione di massa e poi quella crisi sociale che riflette questi altri due cambiamenti ma che va insieme perché alla fine chi paga di più i cambiamenti globali sono sempre i più poveri i più fragili sia a livello di popoli che a livello di comunità locali lo vediamo noi nelle aree interne come lo vediamo in Africa in Asia in America Latina su disservizi molto più significativi e grossi ed è bello che parliamo di questa cosa in una facoltà di agraria io credo sia utile per noi tanto per cominciare a livello dei nostri settori scientifico disciplinari perché vuol dire che abbiamo qualcosa da dire ma abbiamo una grande responsabilità nel non averlo detto fino adesso io su questo sono stato critico anche quando ero presidente di Aissa e ho cercato per un po' di anni di spingere in questa direzione e magari su questi semi pian piano vengono fuori avere Biosities a Roma finanziata dal Ministero degli Esteri faciliti di livello europeo in collegamento strettissimo con la FAO ed altri organismi internazionali io spero possa essere utile anche per il nostro paese e questo veramente è un successo che credo possiamo rivendicare con un po' di orgoglio ma non per mettere in mostra il nostro orgoglio assolutamente per cercare di recuperare un po' di identità che invece come mondo rurale sappiamo perdere progressivamente la perdiamo progressivamente perché la mentalità urbana è stato detto più volte oggi anche quella sembra ormai ineluttabile inarrestabile e sembra essere la categoria dominante di tutti gli stili di vita anche delle persone che abitano nei piccoli centri o in campagna guardate bene la mentalità non è tanto il livello di benessere quello ben venga per carità sarebbe giusto proprio evitare limitare le desuguaglianze il nostro problema è che rischiamo di sconnetterci dai cicli della natura per cui poi nelle città respiriamo un'idea romantica fuorviata distorta della natura e nelle campagne subiamo le distorsioni di questa visione cittadina che è dominante perché è quella che poi impone le scelte alla politica e all'amministrazione è su questa contraddizione che giochiamo tantissimo delle nostre crisi ed è su questo che forse uno degli slogan per BioCities che stiamo cercando di provare su cui cerchiamo di ragionare soprattutto noi è from cities back to forest cioè provare a riportare una cultura io lo voglio dire naturale perché è una parola che ha poco senso forse per il nostro paese più rurale anche nel mondo delle città perché questo ci aiuterebbe a imparare di più come funzionano gli ecosistemi e come funzionano i cicli biogeochimici che sono quelli che poi sono i servizi ecosistemici che oggi ci mettono in difficoltà perché appunto vogliono dire vogliono dire cambiamento climatico declino della biodiversità eccetera eccetera disservizi fatiche pericoli insicurezza e questo è un po' il tema più importante però per far questo di cosa abbiamo bisogno di gestire questi conflitti e queste contraddizioni facendoli vedere smascherandoli innanzitutto Donatella ha anche detto delle cose interessantissime sul Global Lens Quiz avete visto quella slide ma a livello locale non andiamo molto molto lontani la Sardegna ma il sviluppo industriale pesante in Sardegna quanto è durato? lo spazio di un mattino 50 anni 40 quante sono le aree industriali? 30 le aree industriali che abbiamo già abbandonato che oggi sono siti contaminati di importanza nazionale SIN su cui quando mi capita la votazione di parte ambientale del parco eolico di Porto Torres dell'ENI l'ENI mi mette le pale fuori perché gli costa troppo fare la bonifica del sito industriale eh no basta queste cose qui però bisogna dirle e chi ha responsabilità o competenze professionali deve studiare queste cose e combattere perché questo livello di attenzione cambi scusate la verba ma anche perché per non farvi dormire troppo arrivo in fondo per dirvi che questo passa attraverso questo passano tutti gli sforzi che la ricerca deve fare di contributo all'innovazione e allora stando invece un po' di più nel mio campo innovazione tecnologica a Stefano Boeri tre anni fa gli abbiamo detto quattro anni fa e ci sta ragionando che meraviglia sarebbe se il bosco verticale fosse in un palazzo di legno in cui la foresta urbana sequesti carbonio nel legno strutturale per tutti quei piani per tutte le città che lui fa nel mondo oltre che essere coperta di alberi e ci stiamo arrivando eh non è che siamo lontani dal farlo Giuseppe Mizegna a Rovereto abbiamo nove piani un palazzo di nove piani in Italia ma abbiamo situazioni europee in cui con l'Xlam e nuove frontiere della tecnologia del legno stiamo andando molto più alti il tema foreste innovazione in campo forestale biocities dove l'uso delle foreste non è degli alberi non è più estetico non è più arredo non è più manutenzione o costo è un investimento per fornire servizi quindi urban foresta urbana e agroforestry è stata citata più volte agroselvicoltura un'altra cosa su cui i nostri paesaggi potrebbero aiutare a insegnare molto la convivenza e la multifunzionalità a questo proposito sempre nella strategia del verde urbano antesignana ed è per questo che EFI poi abbiamo avuto buon gioco come italiani dell'EFI a vincere la concorrenza tedesca fortissima che avevamo ma non solo perché la facilities capitasse a Roma in Italia invece che in altri posti nella nostra strategia nazionale del verde urbano ci sono tre criteri importantissimi ho già un minuto di ritardo arrivo in fondo i tre criteri sono passare da metri quadri a ettari nella progettazione delle foreste urbane basta con gli standard del metro quadro che ci hanno portato dove siamo con le città da metri quadri a ettari perché l'ettaro che può aiutare è ovviamente una provocazione di un criterio che ti dice è l'ettaro che ha una dimensione ecologica più significativa nella sua funzionamento ecologico secondo criterio deimpermeabilizzare esistono studi nel nostro paese sempre fatti per la strategia pubblicati che ci dicono che nello spazio grigio e brown di quelle zone di inter insomma negli ambiti urbanizzati artificializzati abbiamo comunque ancora un milione di ettari dei due milioni e mezzo che coprono consumati di suolo che sono ancora non impermeabilizzati del tutto magari invasi da specie aliene per cui le città sono i primi hotspot e causa di invasione di specie esotiche aliene invasive pericolose in tutti i livelli però ancora spazi permeabili allora lì si potrebbe provare a lavorare nella partnership pubblico privata lì bisogna andare per allargare questi spazi permeabili non impermeabilizzarne di nuovi questo è un punto molto importante ed è scritto in un documento approvato dal Ministero dell'Ambiente proposto al Parlamento è fatto proprio dal Parlamento il terzo criterio è vedere la foresta urbana è stato detto bio-city dice la stessa cosa proprio come una foresta in cui la giusta posizione di alberi parchi giardini aiole siepi fasce boscate reticolo ideografico quindi blue infrastructure green infrastructure tetti pensili verde verticale tutto quello che va sia pensato come ogni singolo elemento biologico che c'è in una foresta tra virgolette naturale questi sono i criteri della strategia vi consiglio di leggervi l'abstrat perché è molto semplice non quattro pagine ma molto chiare finisco dicendo che tutto questo ci potrebbe portare e su questo vado un po' oltre quello che è stato detto ci potrebbe portare a pensare che oggi per battere quelle tre crisi che dicevo prima la unica grande crisi socio-ecologica di cui parla anche Papa Francesco laudato sì noi non ci basta più la sostenibilità per il concetto di sostenibilità che è nato in silvicoltura nel 1756 da Von Karlovic che diceva per conservare il patrimonio forestale basta prelevare l'interesse non intaccare il capitale come ognuno sa bene è molto facile preleviamo l'incremento in una foresta e lasciamo inalterata la provvigione di base e quindi saremo sostenibili no non ci basta più essere sostenibili dobbiamo andare molto oltre infatti il decennio attuale è il decennio della restoration ecology del ripristino degli ecosistemi e noi da dove dobbiamo cominciare sicuramente dobbiamo cominciare da salvare evitare che bruciano ancora gli incendi i nostri boschi che aumentano vertiginosamente di anno in anno e sono sempre più in pericolo per tante cause però possiamo ricominciare da quegli ambienti peri urbani rurbanizzati molto degradati a cui corrisponde in genere al degrado ambientale il degrado sociale su cui c'è tanto da fare per ripristinare il funzionamento ecologico e quindi responsabilità è qualcosa di più di sostenibilità grazie a tutti grazie 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 veramente per queste belle conclusioni aggiungo giusto una notizia avete visto pochi studenti oggi ma i nostri studenti di scienze forestali ambientali che sono tutti di Nuoro insomma della nostra sede di Nuoro sono impegnati in questa settimana proprio in questa settimana alla foresta di Montes in un'esercitazione didattica quindi non hanno potuto partecipare in presenza poverini vedi appunto stanno molto meglio di noi sicuramente però potranno vedere la registrazione non lo dico perché insomma qualcuno potrebbe dire ma non c'erano studenti e gli studenti di scienze forestali sono appunto impegnati lì ringrazio moltissimo non so se vuole fare l'intervento comunque da registrare per aver alzato la mano prima Tims ha no ma c'è ancora rosso quindi se vuole parlare a microfono non vogliamo togliere la parola a nessuno è quello che è un po' bello e sicuramente si è andati a un livello molto alto però abbiamo visto anche arrivare ad aspetti molto vicini insomma a noi e l'intervento lo stavo richiedendo proprio perché c'era l'assessore e guarda caso ancora non aveva nonostante abbia sentito una serie di interventi mi sembrava sapesse ancora la perplessità di dover per forza adempiere a un rischio il rischio il primo che i primi che hanno chiesto di cercare di doverlo affrontare è stato proprio il comitato di quartiere ha menzionato che si sta intervento adesso in un'area via sabluvia ebbene quello è stato chiesto sollecitato e alla fine lo si sta facendo perché il comitato di quartiere ha chiesto di dovere di intervenire cosa voglio dire voglio dire che rispetto al fatto della sensibilizzazione che qualche l'uno ha accennato che a un certo punto non è nella popolazione ma bisogna trasmettere mi sembra che sia un pochettino almeno per l'esperienza mi sembra che sia un pochettino più nella popolazione nella gente anche quando ci sono parcheggi in ballo qualche amministratore io mi pongo semplicemente un problema come questo tipo di convegno le indicazioni che vengono pure in modo molto anche radicale come stava esprimendo nell'ultimo intervento come devono essere fatti capire dalle amministrazioni che evidentemente non è semplicemente ma quindi l'università venga a non essere in un castello di cristallo a limite perché è anche le certose le pubblicità che quindi non vengono preferite per chi ha fatto anche l'assessore sapere che intaccare per esempio altre amministrazioni questo è l'esito quello che è passato da parte del comune di Sassari come scelta di dover aggredire il è perché alla fine hanno fatto una conferenza in cui non c'erano le amministrazioni in cui non c'era nessuno e a quel punto hanno deciso con l'assenso di chi non era presente io vi pongo e spero visto che dobbiamo passare ancora sotto un aspetto di analisi che l'ARPAS di cui l'ex assessore conosce bene che ha sofferto enormemente la carezza di organico e quindi molte cose sono passate grazie al fatto che non vi era la presenza delle amministrazioni venga affrontato anche dall'università ci siano le sollecitazioni giuste indirizzate verso tutti perché questo tipo di convegno credo che abbia sconfessato totalmente il tipo di scelta che alla fine questa amministrazione sta facendo per ciò che riguarda le PAN non solo solamente l'aggressione pian piano del verbo è esattamente la distruzione di buona parte di quella che anche in situazioni non dico di bosco intenso ma ci sono albedi di una certa consistenza scusate grazie grazie comunque per questo intervento e al prossimo appuntamento questa casa è casa per discutere di questi temi grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti